Non poteva che essere una notte diversa dalle precedenti quella che si è lasciata alle spalle la settima edizione di Candele sotto le stelle. Rispetto al passato le costanti cromatiche sono state quelle del dress code Total White e del chiarore delle migliaia di candele che hanno illuminato il litorale da Fosso Seiore fino a Gabice addentrandosi anche al castello di Gradara. A solcare la differenza è stata piuttosto l'obbligatorietà del Green Pass che ha influenzato l'accesso ad una festa che rispetto alle precedenti edizioni ha visto qualche presenza in meno sulle spiagge e vivacità dirottata sulle strade del lungomare e nei ristoranti praticamente tutti sold out. Ne è uscita una festa cucita su misura alle accortezze del periodo pandemico dove il rischio di assembramento in spiagge è stato spostato su strade più sorvegliabili con un migliaio di controlli a campione sul Green Pass. Pochissime le persone trovate sprovviste che la polizia locale ha allontanato dall'evento ma senza multe. Festa dunque ma in sicurezza come sperava il sindaco Matteo Ricci. Come ogni anno è una bellissima notte fra l'altro caldissimo tantissime persone lungo la spiaggia centinaia e centinaia di candele che rendono il tutto magico grazie ai volontari della Proloco di Candelara però l'abbiamo fatta col Green Pass perché è evidente che si spostano 30-40 mila persone ed avere tutte queste persone anche se distribuite lungo 7 chilometri di spiaggia richiedeva un elemento di sicurezza in più. Vi voglio ringraziare la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine perché la Polizia Municipale ha già fatto circa mille controlli sul Green Pass ed è la dimostrazione che in maniera molto discreta si cerca di rendere questa grande manifestazione la più sicura possibile. Oggi parlando con dei miei amici ho detto ma provate ad immaginarvi se non avessimo messo il Green Pass quante polemiche ci sarebbero state perché comunque come vedete c'è tanta gente quindi credo che abbiamo fatto benissimo a introdurre questo strumento perché comunque la legge dice che gli eventi devono essere fatti con il Green Pass. Questo è un evento strano perché è distribuito però in alcune parti di città si creano delle aggregazioni quindi abbiamo fatto assolutamente bene. Un migliaio di controlli al Green Pass come un migliaio erano stati i tamponi gratuiti effettuati al campus in mattinata da cittadini ma anche da turisti che non volevano perdersi l'evento ottenendo la certificazione verde. Ma c'è chi ha fatto di più come le poco meno di 100 persone che hanno approfittato dell'uscita serale per vaccinarsi in camper nell'unità mobile che l'Asur ha predisposto per 4 ore alla palla di pomodoro. Soddisfazione per la riuscita di una festa in sicurezza non solo per il sindaco Ricci ma anche per i primi cittadini di Gabicce e Gradara, Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi nella nuova intesa come Riviera San Bartolo. E Ricci guarda anche con speranza all'edizione 2022. Si rinnova ogni anno, quest'anno ovviamente l'abbiamo resa il più sicura possibile con il Green Pass. Il mio sogno del prossimo anno è che si possa tornare a ballare. Mi piacerebbe il prossimo anno che la Notte delle Candele possa essere una grande notte nella quale si balla da tutte le parti e ovviamente vorrà dire che avremo sconfitto il virus e che si potrà ritornare a fare delle cose alle quali in questo anno abbiamo dovuto rinunciare. Quindi spero che il prossimo anno sia la festa delle candele danzante. Ecco questo è l'obiettivo del prossimo anno perché vorrebbe dire che avremo davvero sconfitto definitivamente questa pandemia che ha purtroppo caratterizzato la vita dell'ultimo anno e mezzo a tutto il pianeta. Non solo il chiarore delle candele, ad essere protagonista è stato anche l'effetto ottico della voragine alla palla di pomodoro creata dall'opera di Antonio Cammarano dedicata al Moiset Faraon che questa settimana ha alzato il sipario sulla 42esima edizione delle Rossini Opera Festival. È l'opera in anamorfico su 3D più grande che sia mai stata realizzata in Italia. Io ho partecipato a dei Guinness World Record negli Stati Uniti, in Olanda eccetera e con i più grandi al mondo sono state delle grosse imprese con tanti artisti qui in Italia così grandi e su pavimento non è mai stato realizzato niente. È stata una bella sfida. Ad apprezzare Roff, Opera 3D e la stessa Notte delle Candele anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in visita a Pesaro. Non solo, ma offre di più. Non solo offre tanto, ma offre ogni volta di più e offre soprattutto questa grande capacità di legare la cultura, la ricerca e le persone. Devo dire che è veramente una grande lezione per tutto il paese.